Con 18 voti a favore, 11 voti contrari al disegno di legge di assestamento e 7 voti contrari a quello con le disposizioni collegate, il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato nella seconda sessione di lavori di luglio la manovra di assestamento del bilancio 2021, compresi i due disegni di legge di rendiconto e rendiconto consolidato relativi all'anno 2020 e il documento di economia e finanza 2022-2024. Dal rendiconto, ha spiegato il Presidente della Provincia Arno, con Pacer, risultavano entrate pari a 6,1 miliardi di euro inferiori del 3,5% rispetto all'anno precedente, con spese correnti pari a 4,49 miliardi e investimenti per un miliardo. Ad un importo di cassa disponibile di un miliardo sufficiente, ha detto il Landessau per reagire alle esigenze a breve termine, si affancava un avanzo di esercizio di 381 milioni di euro. Inoltre lo Stato avrebbe coperto il deficit di entrate stimato a livello degli anni pre-crisi. Egli è poi ha fatto riferimento all'impugnazione da parte dello Stato dei 528 milioni iscritti a bilancio in primavera, riferendo che il Governo aveva riconosciuto alla provincia circa 60 milioni di euro e sul resto si stava trattando. Pertanto si sarebbe utilizzata parte dell'avanzo di amministrazione a copertura delle somme mancanti. Non si finanziavano spese aggiuntive ma era previsto un indebitamento tra il resto per la creazione di una facoltà di ingegneria. Su Tiroler Freiheit ha contestato il mancato rispetto degli accordi da parte dello Stato e chiesto velocità nella messa a disposizione degli aiuti. I Freiheitlichen hanno invitato a non alimentare le divisioni sociali e non affidarsi solo alla strategia vaccinale, continuando a promuovere le norme di igiene. Fratelli d'Italia, pur sostenendo il vaccino, si è opposta al relativo obbligo e al Green Pass che limita la competitività del territorio. Ha apprezzato invece l'introduzione dei fondi per la dotazione tecnologica dei docenti, richiesti da anni dal gruppo. Enzian ha criticato la strategia vaccinale e il Green Pass esortando a non discriminare chi rifiuta il vaccino. Partito Democratico, l'Isteciviche ha invitato a garantire adeguate finanze ai comuni e chiesto informazioni sul Recover Fund. Dai banchi della SVP sono arrivati interventi a difesa della manovra con inviti a sostenere turismo e investimenti. Con le disposizioni collegate si è preveduto tra l'altro a creare il registro provinciale degli artisti e delle artiste e garantire sostegno ai maestri di sci con un emendamento della SVP dopo un contestato tentativo di introdurre un articolo aggiuntivo sul tema. Regolamentare la possibilità di riunioni e votazioni in modalità telematiche sia nelle scuole che a livello amministrativo. Introdurre rimborso delle spese per attrezzature informatiche al personale scolastico.